buongiorno Grazie a tutti Grazie a tutti Oh I uvoli girevoli nascondono chissà cosa Di ogni stanza c'è per l'uscita dei principi Cioè, ascolta, ma le uvoli girevoli? Qui è tutto uguale? Allora, qui è tutto uguale Poi? Cosa? Oh mio Dio Che figata sta stanza Salve, tizio Oh no 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 Andate venendo Finocchi tutti Allora Allora, apriamo la porta Cos'è? Non sentire un ragno? Oh! Qua cosa c'è? Un muro, perfetto Non perdiamo Sì, dondola No, labirinto Le pare che si muovono No, però Ok, questa stanza sfondo Sì, immagina è di sorno Questo è di sorno E' da no no Di qua Che mi ispira Ragni Quindi tu devi continuare Che ne hai sempre venuto il tasto Mira Una padaria con cui non posso interagire Una torsi Non voglio fare propaganda a Ditto Invece lo faccio Perché? Di qua Non mi sono perso niente Di qua Perché a quanto fare Questo ciò Devo andare ovunque No Non mi sono perso Nella stanza Nel punto di partenza No, la padaria Mi impediscono di passare Di qua Infarto Due Ma mi vengono di culo Dove siete? Oh Questa fa Bastante a me Che muri Oh Che cavolo Vado se la mente Oh Quanti sono? Oh Ma di sesta Mi è venuto Ok Qui aspetta a passare Perché di sicuro Ho dimenticato qualcosa Ho detto Che di sicuro Ho dimenticato qualcosa Ma che Il gas Mi ha detto Un giro in questa stanza Però non mi ha detto In questa stanza Quante stanze sono Ho detto Una cosa etica Basta Senti Lo ringrazio Anzi Lo odio Per avermi spoilerato Questo piccolo dettaglio Però gli vado avanti Ok No È infinita Sta stanza E sono Solo cinque minuti E ci sto dentro Questo vado è storto Secondo me Ragazzi Ad uno è genio Un letto È un mazzo Forse ho capito Ciò che intendeva Ok Sempre la direzione Oh ragno Eh Muori Mi ha preso 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 Vediamo La scelta Non me l'ha aspettato Questa Di subito Oh mio Dio Allora Eh no 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 Arraggiatela No 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 Vediamo se mi sono perso qualcosa Cosa Sempre spremuso L1 Sempre premuso L1 sempre premuso No Niente voti improvvisi Con'è questa cosa È una pelle di abiti volante Oh Interruttore Interruttore Sì Finalmente E' un libro Ma è lo stesso Trovate Costanza Ok Allora Vediamo un po' Allora Vediamo Sentite 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 In pausa Vedo voi E leggete Allora Prima di tutto Ripende Energia 10 Wow Allora Cosa 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 Un comodino Oh E sono 200 Spiditi 200 Spiditi Ho Finito La Stanza In 8 Minuti Sono Bravissimo Ehm A quanto ho detto sulla condizione del gioco i spidi dovrebbero essere 999 Mi rendetevi conto e sicuramente non ce la farò a finirlo tutto in gioco 8 minuti e mezzo ho finito sta stanza Ok Aspetta 200 Spiditi Ah no Porta 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 Posedusa Ok Salviamo Non ti bloccare Oh Ok Allora Mi dispiace se questo video durasse un po' meno degli altri Qui Però D'altronde volevo fare una Una Stanza per video Quindi Direi che possiamo In una decina prossima parte Ciao Ciao